ma quanto è fastidioso quando una app si blocca e non c'è assolutamente verso di chiuderla né utilizzando il pulsante con la x né con la combinazione di tasti alt f4 e neppure utilizzando la gestione attività che andiamo ad aprire con control shift task per fortuna microsoft ha introdotto una nuova funzionalità che ci consente di chiudere qualsiasi applicazione bloccata con solo due clic andiamo a vedere insieme come attivarla ti senti pronto iniziamo ed eccoci qui con la nostra calcolatrice che a quanto pare non ha assolutamente nessuna voglia di chiudersi possiamo provare con la combinazione di tasti alt f4 ma non c'è verso e allora possiamo provare a cliccare con il pulsante destro e a scegliere la voce chiudi finestra ma anche andandoci a cliccare la calcolatrice rimane attiva proveremo quindi con control shift ed esc spostiamolo un pochino in maniera che si veda individuiamo la nostra calcolatrice clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo la voce termina attività ed ecco che la calcolatrice tuttora non si chiude ma allora che cosa possiamo fare in questi casi quello che è possibile fare è attivare una nuova funzionalità che di base è disattivata sul nostro windows che ci consente di far fronte a tutti questi inconvenienti vediamo come farlo la prima cosa da fare sarà portarci in basso sulla nostra bandierina ovvero il tasto start di windows cliccarci su e andare a scegliere l'icona delle impostazioni questa qui aperte le impostazioni ci porteremo sul lato sinistro sulla voce che si chiama sistema la seconda dall'alto apriamo il sistema e andiamo a cercare la voce per sviluppatori questa qui clicchiamoci su e in questa pagina che si apre andiamo ad attivare questa voce qui che si chiama termina attività che abilita la fine dell'attività sulla barra delle applicazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse andiamo quindi sul relativo interruttore e portiamolo sulla posizione di attivato ecco fatto possiamo chiudere la finestra delle impostazioni portarci qui in basso e cliccare con il pulsante destro come puoi vedere oltre alla voce chiudi finestra sarà comparsa questa utilissima voce che si chiama termina attività se ci andiamo a cliccare su vediamo che finalmente la nostra calcolatrice si chiude e lo stesso faranno tutte quante le app più ostinate sul nostro pc ma a questo proposito prima di chiudere il video ci tengo a raccontarti un aneddoto che mi ha fatto recentemente parecchio sorridere e che sono certo incuriosirà e farà sorridere anche te molto probabilmente se segui il canale ti ricorderai di questo video qui in cui parlavamo del mistero degli aggiornamenti infiniti che si era verificato presso una certa azienda nel caso in cui tu non abbia visto il video non voglio anticiparti niente guastarti la sorpresa e spoilerarti come si suol dire il finale ma ti invito ad andarlo a vedere se invece lo hai visto sappi che la settimana scorsa sono stato chiamato dal titolare della stessa azienda che proprio sul suo computer aveva un problema allo stesso tempo inquietante ed imbarazzante quando sono arrivato presso l'azienda il titolare con aria circospetta mi ha condotto rapidamente nel suo studio dove la porta era chiusa mi ha mostrato il suo pc sul cui schermo campeggiava una pagina internet di un sito a carattere pornografico che io per questioni di opportunità o in questo caso sostituito con la home page della rivista playboy e su cui c'era il fermo immagine di due persone in una posa estremamente esplicita e altrettanto imbarazzante mi ha detto che non c'era assolutamente verso di chiudere quella finestra in alcun modo e mi ha invitato a fare qualsiasi cosa per farla sparire naturalmente la prima cosa che ho fatto come farò in questo caso è stata andare sul tasto con la x che assolutamente non rispondeva al comando allo stesso modo ho provato con la combinazione di tasti alt f4 e quantunque la finestra fosse selezionata purtroppo l'unica opzione che mi dava era il rianvio di windows come in questo caso non c'è stato verso neanche con control shift e desk di arrivare a chiudere il browser perché anche andando a terminare l'attività purtroppo la pagina rimaneva a questo punto l'unica cosa che mi son detto è stata riavviamo il pc e per forza di cose il processo verrà chiuso facciamolo insieme alla velocità della luce ops l'immagine era sempre lì il processo non risultava attivo e non c'era assolutamente verso di spostarla chiuderla o quant'altro molto probabilmente tu che sei più furbo di me avrai già capito l'arcano ma ti garantisco che io per circa due minuti sono rimasto letteralmente sbigottito fino a quando alla fine non mi si è accesa in testa la lampadina intuendo come sicuramente sarà balenato in testa anche a te chi potesse essere il malefico autore di quello scherzo ho semplicemente fatto clic destro sullo schermo scegliendo la voce personalizza aprendolo mi sono accorto che lo sfondo che era stato applicato al pc era nient'altro che uno screenshot effettuato mentre quel sito imbarazzante era aperto a questo punto è bastato andare sulla voce sfondo e ripristinare lo sfondo normale del pc chiudendo la finestra l'imbarazzante pagina web era finalmente scomparsa non oso pensare che cosa sia successo al nostro rampollo di famiglia una volta tornato da scuola anche se ho dei seri sospetti sono andato via prima dall'ufficio perché non mi piacciono le scene cruente ma mi pare di avere intuito una cosa ovvero che il nostro simpatico soggettino ci abbia preso gusto a diventare famoso sul nostro canale e che magari in futuro possiamo aspettarci qualche altra marachella da parte sua e siamo quasi giunti al termine di questo video perché prima ci terrei a fare una precisazione che in realtà contiene anche delle scuse sono rimasto come probabilmente avrai notato un po indietro con i commenti faccio di tutto per leggere tutti i commenti tutti i giorni e rispondo ogni giorno a più commenti possibili purtroppo talvolta non riesco ad arrivare fino in fondo anche perché il periodo essendo a ridosso delle feste di natale è per me parecchio congesto quindi conto di recuperare nei prossimi giorni e ti prego di avere pazienza e siamo giunti al termine anche di questo video e come sempre non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia durante questi minuti salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima